chiaro c'è o c'è? eh primo della giornata bello eh dai vediamo se riusciamo a trovarne qualcuno guarda che bello Giuseppe bello ovoli e funghi e statini rossi un po' di tutto una meraviglia di settembre un bocciolotto rosso bellissimo rossi dov'è? è qui bello è la strada è la strada Giuseppe ovolo di settembre bellissimo bellissimo bellissima 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 Grazie a tutti. Bellissima. Bellissimi rossi. Bellissima. Bellissima. Lo mettiamo insieme agli ovuli. Bellissima. 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Meraviglia di settembre Dalla macchina Si trovano i funghi Sulla strada del ritorno Ultimi funghetti Un bello estivo E un bocciolino di rosso Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie a tutti